Tutti questi cazzi di psicofarmaci che vorrebbero servire ad alleviare le mie allucinazioni, non fanno altro che ridurre il mio potere sciamanico, avete capito? Quindi anche gli psichiatri sono dei deviati, non hanno capito un cazzo, la psichiatria non è neanche una scienza certa, lo dice la scienza, la scienza in sé lo dice, non hanno capito un cazzo questi, questi danno pasticche, guarda, privano anche della serotonina e della dopamina, sono dei maiali, sono dei vigliacchi. E' uno schifo, è uno schifo, il sistema mondiale è uno schifo, ci salviamo solo perché siamo meglio dell'Oriente, del Medio Oriente, ma per il resto è uno schifo.